Buongiorno, oggi siamo Pian del Lupo, partiamo per Punta Queen Seina, vediamo un po'. Anche oggi il tempo è bellissimo, come vi farò vedere. E anche oggi c'è il Cuggi e anche Davidone. Ciao, vediamo un po'. Qua io questa, come l'abbiamo disegnata, sono quattro chilometri, quasi mille dislivello. Tutta così. Eccola là, una delle nostre mete. Tempo sempre perfetto. Come dicevamo all'inizio del video, questa è la seconda volta che porto mio cugino in montagna, per fargli apprezzare la montagna, i suoi panorami. E anche oggi è questo. Una nebbia così non l'hai mai vista in città. Cioè questa è nebbia vera, nebbia naturale di montagna. Siamo ai tre denti, Queen Seina, proseguiamo qua, a destra. Ci metti in botto, tanto che la metà del tempo. Ci metti più a scendere, mi sa. Un bel tèino caldo. Meridone, che stringe le chiappe. Chissà come mai. Un panorama sempre fantastico. Ragazzi, siamo tre chilometri e ventotto, 663 di dislivello. Qui c'è il nostro capoguida escursionistica, ormai. Oggi non lo ferma nessuno. Il tempo sempre favorevole, per far gustare la visuale. Come vedete, è sempre bello. Ragazzi, siamo arrivati alla Queen Seina. Come sempre, paesaggi top. Solo paesaggi top. Quando porto mio cugino in montagna, solo paesaggi top. Saluta, Davide. Saluta. D sembri. Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo arrivati a Croce Quinzeina, la nord mi pare, è 2003-12, quanto abbiamo fatto da? Quasi mille metri di dislivello In quanti chilometri? Quattro Quattro E ventisette Buono dai Adesso ci mangiamo fette biscottate marmellata e poi scendiamo Ma noi oggi mica siamo venuti per la montagna, per il paesaggio Tiè, beccatevi sti fagioli e salsiccia e pancetta Va Che merenda ti faccio fare? Ce le sono? Le 11? No, le 11.55, metà giorno Perfetto 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 Ragazzi siamo arrivati alla macchina 9 chilometri In 4 chilometri e mezzo abbiamo fatto quasi mille metri di dislivello Cui è stato troppo bravo Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao